Le differenze dell'allenamento relativo al trail rispetto a quelle del podismo su strada siano legate al fatto che il trail richieda una dose maggiore di forza muscolare e una dose anche maggiore di elasticità e coordinazione. Questo perché ci sono quasi sempre dei dislivelli da superare sia in salita che in discesa e ci sono degli ostacoli naturali che sia anche il sasso, la radice piuttosto che la pozzanghera di fango quindi c'è bisogno proprio di allenare in maniera anche abbastanza specifica la forza degli arti inferiori. E quindi il consiglio potrebbe essere non andare a mettersi nelle grane con una sky race con 3000 metri di dislivello e le pietre messe in verticale dove puoi farti male e puoi farti quindi anche delle cose spiacevoli ma cercare quelle gare dove puoi esprimere il tuo potenziale di runner e farlo valere in natura. Piaccia o non piaccia una risorsa che abbiamo tutti a disposizione è il tapirulano. Mettila come vuoi sicuramente è quasi uno simolo rispetto alla corsa in natura ma se parliamo di strumenti che si possano utilizzare in ambito di pianura finalizzati al miglioramento di un allenamento in natura il tapirulano non è sacrilego anzi potrebbe essere veramente uno strumento di allenamento. Nella corsa su strada o in pista normalmente vince l'atleta più veloce. Nel trail non è così sempre, spesso è così ma non sempre. Le gare di trail vincono gli atleti che riescono a gestire cinque elementi contemporaneamente che sono la prestazione atletica quindi la velocità di base sostanzialmente, la gestione nutrizionale dello sforzo, la gestione del materiale, dell'equipaggiamento che si utilizza, molto importante, la tattica e la strategia di gara e poi gli aspetti mentali legati a tutto quello che si viene a sviluppare. Quindi non è che l'atleta che fa quello da 80 è più forte rispetto a quello che fa la gara corta. Sono tutti atleti sullo stesso piano, con specialità diverse. Ognuno deve esprimere le proprie potenzialità fisiche e mentali nel format di gara che gli si addice di più. Benvenuti a tutti. Oggi ospite qui con noi Fulvio Massa, un grandissimo esperto di trail running, un fisioterapista, preparatore atletico e anche nello staff della Nazionale Italiana di Corsi in Montagna. Grazie a te Paolo e a tutti. Grazie. Iniziamo a rompere il ghiaccio subito con la prima domanda. Ti chiedo magari di spiegare brevemente che cos'è il trail running. Perché secondo te negli ultimi anni sta prendendo così tanto piede in Italia? Beh allora la domanda diventa subito spontanea per introdurre questo mondo del trail running che non è solo riconducibile a una disciplina sportiva dal punto di vista tecnico ma anche proprio sociale. quindi la grande diffusione di questo sport deriva forse proprio anche dalla necessità di tante persone di vivere esperienze di corsa immersi nella natura. Quindi con delle variabili che sono proprio legate al contesto in cui viene svolta l'attività fisica. Quindi il coinvolgimento che la natura può offrire. Penso che questo sia determinante un po' anche nella scelta della disciplina. Perché poi dal punto di vista tecnico il trail running è comunque una corsa in natura spesso alternata a marcia che si svolge su percorsi naturali che hanno sostanzialmente delle difficoltà ambientali legate all'altitudine, al profilo altimetrico, al fondo sconnesso. spesso legato a un concetto anche di semi autosufficienza perché in questo ambito di spazio naturale da attraversare l'atleta in qualche modo si deve gestire nell'abbigliamento, nell'alimentazione, nell'idratazione. E quindi insomma è corredato da una serie di imprevisti che di fatto rendono anche nello stesso tempo affascinante questo tipo di disciplina. Secondo te è un discorso di ritorno un po' alle origini, alla natura, quello che sta accadendo in questi anni in Italia? Perché vedo che comunque il movimento sta crescendo molto. Ma sì, scrissi anche un paio di anni fa un articolo su Correre dove misi in risalto il numero di partecipanti agonisti di trail running in Italia che era decisamente superiore a quello dei maratoneti. Quindi insomma i numeri sono poi quelli. Basti pensare che ogni weekend in Italia ci sono decine anche di gare di trail running sul territorio e quindi anche a livello internazionale sia una disciplina che conta comunque un numero enorme di partecipanti. Da questo punto di vista mi viene da dire, tu hai giustamente detto un ritorno alle origini. Quindi sì, proprio di questo si tratta nell'arco dell'esistenza del genere dell'essere umano. Noi dobbiamo pensare che è la corsa su asfalto la novità per l'essere umano e non la corsa sui sentieri. Perché l'essere umano è iniziato a correre su asfalto dopo la seconda guerra mondiale sostanzialmente da lì in avanti. Fino ad allora per milioni di anni l'uomo se correva, correva sui sentieri perché altro non c'era. Quindi è effettivamente come l'hai definito tu giustamente anche un po' un ritorno alle origini. Ti faccio una domanda che secondo me è importantissima. È una disciplina vasta, enorme, perché si passa dalla montagna alla natura a tutti i scenari possibili. Come si approccia questa disciplina? Perché secondo me c'è molto la credenza che se non si vive in montagna, se non si ha la possibilità di appunto aver tutto questo dislivello, si è un po' tagliati fuori. Quindi ti chiedo come possiamo approcciare il trail running? Allora, domanda interessante perché dalla mia risposta può anche dipendere magari un avvicinamento a tanti appassionati. Sono oggettivamente abituato a seguire atleti che vanno dal leadership mondiale, quindi dalla maglia della nazionale, al primo amatore, ai primi passi veramente. L'approccio deve essere innanzitutto un approccio di consapevolezza. Quindi parliamo dal punto di vista generale e poi tecnico. Dal punto di vista generale la consapevolezza di dove si va a correre, che può essere inizialmente anche nelle colline dietro casa, può essere anche in un ambito di territorio che non per forza debba essere esotico o estremo. Anzi, invito a mettersi sempre un pochino a livello prudenziale ad andare a cercare degli ambiti di natura che non mettono in difficoltà né te stesso e né chi eventualmente deve venirti a tirar fuori dalle grani. Quindi da questo punto di vista è tutto trail running. La cosa importante che io suggerisco è di avvicinarsi con uno spirito che inizialmente deve essere libero, senza quindi condizionamenti dalla media chilometrica, dal tempo, da tutto quello che normalmente invece coinvolge quando si fa una corsa su pista o una corsa su strada. Questo è l'aspetto che secondo me è principale per avere un approccio di inizio. Quindi cercare di esplorare un territorio attraverso l'alternanza della marcia e della corsa. E in questo tratto che noi viviamo di sentiero, di natura, cercare di metterci in condizione di viverla questa natura con gli abiti giusti, con l'alimentazione giusta, portandoci, che so, il biscotto piuttosto che l'acqua, piuttosto che il gel per durare magari anche un paio di ore tra i sentieri e in ambito naturale. Questo è fondamentale. La tecnicità viene dopo, ma per iniziare penso che questo sia fondamentale. Mi fa piacere che chiarisci questo punto, perché vedo spesso la gente è un po' preoccupata di non avere i mezzi, non avere la possibilità di andare in montagna, non avere invece, come dici giustamente tu, basta veramente uscire sullo sterrato di un lungo fiume, piuttosto che di un boschetto per divertirsi e approcciare la natura. Inizialmente penso che possa già essere sufficiente. È chiaro che poi nel momento in cui hai una base puoi andare anche a cercare altri orizzonti e cercare anche altre esperienze più impegnative. Questo dal punto di vista dell'approccio mentale, poi naturalmente dal punto di vista tecnico ci sono altre reazioni, altre direzioni che si possono prendere. Bene, colgo la palla al balzo, ti faccio una domanda un pochettino più tecnica. A livello di allenamento, come bisognerebbe allenarsi nel trail e se ci sono degli allenamenti che secondo te sono indispensabili, cui non possiamo fare a meno se vogliamo fare questo tipo di disciplina? Allora, dunque, intanto penso che le differenze dell'allenamento relativo al trail rispetto a quelle del podismo su strada siano legate al fatto che il trail richieda una dose maggiore di forza muscolare e una dose anche maggiore di elasticità e coordinazione. Questo perché ci sono quasi sempre dei dislivelli da superare, sia in salita che in discesa e ci sono degli ostacoli naturali, che sia anche il sasso, la radice, piuttosto che la pozzanghera di fango, quindi c'è bisogno proprio di allenare in maniera anche abbastanza specifica la forza degli arti inferiori. La forza attraverso vari metodi, sia con degli allenamenti su terreno naturale, quando è possibile farli, sia in altre circostanze, come ad esempio utilizzando del cross training con altre metodiche che sono estremamente funzionali poi al trail running. Per quanto riguarda il discorso dell'agilità e coordinazione, si può allenare e costruire soprattutto con degli allenamenti in natura, è più difficile da creare una simulazione di allenamenti coordinativi e di agilità in artificialità di allenamento. Quindi sicuramente su quelli il fatto di sapersi muovere in natura è molto importante. Come possiamo fare per allenare il dislivello? Io vivo sul mare, quindi non c'è grande dislivello. Per chi non ha la possibilità di approcciare salite, grandi montagne, o comunque non ha il dislivello dietro casa, come può costruirlo? Come può allenarlo? Beh, allora ti rispondo subito. Intanto è un dato di fatto che oggettivamente i più grandi atleti di questa disciplina possano allenarsi in montagna, cioè quasi tutti anche, mi vengono in mente gli italiani nostri, abitano quasi tutti su aree di montagna o media montagna. Quindi per performare effettivamente normalmente ci vuole questa caratteristica. Ma mi viene in mente, ad esempio, un po' di anni fa, se non sbaglio 2015, il capitano della nazionale italiana era Filippo Canetta, che tra l'altro saluto un amico, abitava e viveva a Milano. Eppure Filippo ha fatto grandissime cose nel mondo dei trail running. Perché è possibile allenare la forza, quindi vengo adesso a rispondere alla tua domanda, anche in condizioni di vita non in ambiente alpino o prealpino. Le metodiche per allenare la forza sono diverse. Come dicevo prima, il cross training, ad esempio la bicicletta, è un ottimo coadiuvante nell'allenamento di forza, soprattutto forza resistente, soprattutto quella forza di continuità della tenuta. Ma anche la palestra. La palestra è un grandissimo strumento che abbiamo a disposizione e che ci consente di fare degli allenamenti a secco, che poi trasformati nella corsa, sono estremamente redditivi. Ci possono essere le scalinate, grande palestra di allenamento outdoor, che simula benissimo l'ambiente di montagna e quindi consente di sviluppare la forza esplosiva, la forza pliometrica. Abbiamo poi la necessità comunque di andare più nel tecnico. Quindi, piaccia o non piaccia, una risorsa che abbiamo tutti a disposizione è il tapirulano. Mettila come vuoi, sicuramente è quasi uno simolo rispetto alla corsa in natura, ma se parliamo di strumenti che si possano utilizzare in ambito di pianura, finalizzati al miglioramento di un allenamento in natura, il tapirulano non è sacrilego, anzi potrebbe essere veramente uno strumento di allenamento. In ogni caso, anche chi abita in pianura e voglia fare trail, una volta che ha un buon motore di corsa, quello è indispensabile, quindi un buon massimo consumo di ossigeno, una buona soglia, deve andare comunque in montagna, l'ideale sarebbe collina, collina, montagna, premontagna, almeno una volta ogni 15 giorni, e quindi deve prevedere comunque di riuscire a crearsi delle microtrasferte per fare degli allenamenti in natura. Chiaro, no, no, quello ovviamente è fondamentale, non è che possiamo allenarci solo sul tappeto e andare poi sul Monte Bianco, ovvio, però quello che vedo anche io, magari nel mio piccolo, che riesco a fare, quello che dici esattamente tu, quindi sfrutto gli strumenti, il cross training, magari le salite, magari i cavalcavia, piuttosto che posso sfruttare le scalinate, e poi una volta alla settimana, due volte al mese, vado magari a fare una bella uscita lunga, specifica sull'appennino, dove uno riesce ad andare, quindi secondo me è uno spunto davvero interessante, è quello che voglio far capire, che non serve per forza vivere in montagna, ovvio, come dici tu, l'adattamento che ha una persona che vive lì, è diverso, però noi parliamo sul canale con amatori, per cui un amatore che non deve vincere le gare, deve solo divertirsi, ed essere in condizione di arrivare alla gara. Ecco, aggiungo che l'unica limitante potrebbe essere quella, di gareggiare su gare in alta quota, ecco, se decido di allenare, di partecipare a gare che mi portano a scollinare a 3000 metri, e vivo a livello del mare, e la quota la patisco. Ma ricordo sempre che ci sono anche tantissime gare che si disputano, ad esempio in Centro Italia, non le nomino perché le conosciamo tutti, ma sono gare di stampo collinare, e sono veri e propri trail bellissimi. Ci sono poi i trail in ambito appenninico, sono tantissimi i trail in ambito appenninico che si disputano in Italia, e sono veramente alla portata, posso dire, di tutti, che cosa è rispettare i cancelli orari che ti limitano poi il discorso della percorrenza, ma generalmente non offrono difficoltà ambientali, alpinistiche o tali da indurre a preoccupare chi vuole gareggiare per le prime volte. Bene, bene. Una domanda per chi viene dalla strada, che spesso vedo il periodo estivo, diciamo, quando si finisce il circuito di gare podistiche, molti, giustamente anche io spesso lo faccio, si spostano sul trail running, quindi sfruttano l'estate per godersi anche la natura. E ti chiedo, se puoi, un consiglio per fare questa transizione dal podismo prettamente su strada ha un approccio per arrivare bene ad una gara di trail running. Sì, guarda, intanto se esci da una stagione podistica do per scontato che sia stato sviluppato in questo periodo un buon allenamento podistico, quindi che l'atleta arrivi nella sua personal best ad avere un buon livello di allenamento, di corsa. Il fatto di riuscire a trasformarlo in un buon allenamento anche nel trail prevede di cominciare a introdurre qualche allenamento di forza, in natura sarebbe l'ideale, e soprattutto fare attenzione inizialmente, se non ha fatto delle transizioni già intermedie, a non passare direttamente su dei terreni troppo tecnici, perché cambia proprio lo schema motorio degli arti inferiori, e quindi magari è più facile che venga fuori qualche piccolo infiammazione, qualche piccolo infortunio di natura così infiammatoria, che poi ti porta ad avere dei rallentamenti inutili. L'unico accorgimento sia un pochino quello. Per il resto è chiaro che inizialmente, anche se fai le cose gradualmente, c'è un po' di indolenzimento muscolare, ipotesi, se è abituato a correre su strada, e magari con un amico vai nel weekend a fare un trail sugli appennini, per qualche giorno poi hai dei doms muscolari che ti portano a camminare un po' come un robot per qualche giorno, ma non lo vedo come un elemento deterrente o negativo, in quel caso fa parte solo di un minimo di gradualità e basta. Consiglio comunque di non andare a metà stagione a iniziare un percorso di forza in palestra. Questa potrebbe anche essere un pochino a discapito dell'elasticità, della brillantezza che hai acquisito con la corsa. Consiglio magari in quei casi lì di allenare la forza più con la bicicletta, quindi magari fare un'uscita alla settimana in mountain bike o in bici da corsa in modo tale da lavorare un pochino di più sulla spinta sui pedali, alleggerire le traumaticità e per il resto quindi lavorare su dei fartlek, dei collinari e allenarsi in quel modo. Una cosa che vedo è che spesso chi magari pratica bodismo, come dici te, ha un buon motore e però ha una carrozzeria ad alta la strada. Quando si passa al trail questo motore a volte è quasi un problema perché ci porta a spingere più di quello che ci possiamo permettere su una superficie naturale, su un dislivello. E da qui introduco la prossima domanda che ti sei anche fisioterapista, che secondo me è importante trattare, è il discorso di infortuni, infiammazioni, problematiche legate proprio alla pratica del trail running. Sì, lì abbiamo due tipi di attenzioni, la possibilità di infortuni traumatici o microtraumatici. Il traumatico sostanzialmente è rappresentato dalla distorsione, l'evento distorsivo di caviglia, potrebbe essere quello più frequente, oggettivamente, nelle persone meno allenate a livello proprio eccettivo a gestire dei terreni irregolari. Gli altri problemi possono essere di natura microtraumatica. Oggettivamente, il trail, non essendo una disciplina ripetitiva, non ha di per sé delle particolari casistiche di infortuni microtraumatici. Tuttavia, consiglio che io do sempre anche ad atleti che siano atleti di strada e si portano sul fuoristrada è di scegliere, almeno nel periodo iniziale, un mese o due, degli allenamenti o delle gare che siano consone, cioè proprio fare una scelta di territorio, quindi privilegiare quelle gare di trail in ambito collinare che comunque consentono anche all'atleta che è abituato a fare podismo su strada di esprimere la propria potenzialità. Ad esempio, un grosso limite di tanti atleti abituati a gare molto tecniche, molto vertical, molto sconnesse è proprio quello di non esercitare bene il gesto della corsa, quindi avere carenze in quell'aspetto. Ecco, il punto forte del podista è proprio quello, del maratoneta, ad esempio, è quello di avere uno sviluppo di corsa molto efficace e quindi il consiglio potrebbe essere non andare a mettersi nelle grane con una sky race con 3.000 metri di dislivello e le pietre messe in verticale, dove puoi farti male e puoi farti quindi anche delle cose spiacevoli, ma cercare quelle gare dove puoi esprimere il tuo potenziale di runner e farlo valere in natura. Questo è il consiglio che è principale. Bene, mi collego al discorso della tecnica di corsa, io sono un po' un fanatico della tecnica su strada è sicuramente decisiva perché come dici tu è una serie di impatti ricorrenti, frequenti che facciamo sempre lo stesso appoggio quindi se uno tecnicamente non ha una tecnica efficace, efficiente si va a far male, si infiamma. Nel trail è diverso perché come dici tu ogni appoggio è diverso, ti trovi in situazioni che possono passare da diverse superfici, da pendenze, come possiamo lavorare sulla tecnica specifica nel trail running? Allora, da questo punto di vista partiamo dal presupposto che i preatletici coordinativi ad esempio che si fanno nella corsa su strada dovrebbero essere un po' il pane anche che accompagna un atleta di trail, ad esempio nelle fasi di riscaldamento prima di iniziare un allenamento io consiglio sistematicamente di farle quindi appoggi brevi, skip, passi steppati, saltelli laterali, saltelli della corda, insomma tutte quelle cose che aiutano a dare stiffness ed elasticità al piede alla caviglia. Detto questo invece in natura ci sono proprio delle forzature chiamiamole così che possono aiutare a migliorare la efficienza degli appoggi e della falcata. ad esempio cercare dei tratti sconnessi che comunque siano abbastanza controllabili ed eseguirli cercando di quasi forzare un saltello tra un appoggio e l'altro quindi cercare proprio su dei tratti di 50-100 metri cercare proprio l'agilità cercare di balzellare e quindi trovare una stiffness unnessi artificiale tra virgolette che poi riesca a essere metabolizzata anche quando vado a fare delle gare o degli avventi più lunghi. Questo in natura penso che possa essere estremamente efficace così pure sulle discese che è sempre un po' punto debole oggettivamente del runner che si porta in montagna è quello di cercare di gestire la discesa non tanto con furia e velocità lineare quanto proprio con un passo agile un passo che cerchi proprio l'appoggio corretto il posizionamento del busto rispetto al suolo e la frequenza degli appoggi quindi questo penso che sia molto importante in termini di economia e prudenza e anche prevenzione da traumi da insaccamento. Sei stato esaustivo e io mi spendo sempre tanto per far capire l'importanza della tecnica nel trail a mio avviso anche più importante. Cambio argomento il discorso materiali materiali in genere poi ne parliamo nello specifico io inizierei proprio a parlare di scarpe scarpa da trail perché su strada adesso c'è molta varietà sul trail c'è anche il discorso della varietà della superficie tipo di scarpa quindi se puoi brevemente dare qualche consiglio per una persona che si trova davanti una grande proposta di scarpe per scegliere quella che possa essere più adatta. Sì allora premesso che comunque ogni scarpa ha una sua conformazione quindi ogni scarpa può essere più o meno adatta a un certo tipo di atleta pianta larga pianta stretta collo alto stretto quindi ci sono già delle differenze che anatomicamente e antropometricamente si vanno ad accostare ad ogni atleta ci sono delle scarpe che sono più adatte per certi trail rispetto ad altre mi spiego meglio le grandi differenziazioni si devono fare in base al tipo di terreno e alla distanza se ha un terreno di tipo collinare quindi non particolarmente roccioso ci possono essere delle scarpe che sono anche abbastanza simili di fatto a quelle di corsa su strada semplicemente un po' più grippate perché se c'è fango non sta in piedi di fatto invece un terreno alpino quindi saputamente roccioso con delle asperità e quant'altro probabilmente dovrebbe essere un po' più protettivo nei confronti dei traumi ma soprattutto una scarpa precisa che quindi non vada a cedere negli appoggi l'altro aspetto è legato alla distanza di gara perché su un trail breve di 20-25 km non c'è quella grande necessità di avere una scarpa con una super ammortizzazione e protezione perché si presume che anche il ritmo sia più intenso si presume quindi che l'atleta abbia un tempo di contatto del piede al suolo più breve quindi riesca a sviluppare una dinamica di corsa più efficace e più efficiente man mano ti vai a spostare su distanze più lunghe il discorso cambia un pochino perché come dico sempre io siamo tutti belli quando vediamo i modelli che provano le scarpe per le pubblicità televisive o negli spot eccetera ma sono tutti freschi quando fanno queste foto se noi prendiamo un trailer dopo un po' di ore che sta facendo una gara non ha più quella bellezza estetica della corsa che ha nei primi minuti con questo cosa voglio dire che più vai avanti nel tempo nella distanza di corsa e più la tua corsa diventa pesante stanca e quindi in quel momento hai bisogno di una scarpa un po' più protettiva un po' più ammortizzata che quindi perdoni quelle tue inefficienze dinamiche della corsa che inevitabilmente arrivano per tutti chiarissimo 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 cioè assolutamente da far questa distinzione una domanda non so se hai avuto modo di già di avere un'impressione sui nuovi modelli di scarpe da trail running con la piastra in carbonio se secondo te sono da consigliare da gestire con attenzione che ne pensi ma si guarda ho provato diversi modelli e anche per la rivista Correre ho scritto alcune recensioni di scarpe con piastra in carbonio di note aziende italiane senza far nomi penso che ci sia tanto da da lavorare e da ottenere in questa direzione intanto le scarpe da trail in carbonio con l'astra in carbonio non sono da paragonare a quelle da strada è un concetto completamente diverso io infatti penso che sia un mercato che potrebbe avere una grande attenzione oggettivamente nella scarpa su strada c'è un po' di correlazione tra la velocità di corsa e lo sfruttamento della lastra in carbonio nel trail non sono così convinto che sia solo legato questa la dinamica che può essere sviluppata attraverso la lastra perché noi possiamo avere atleti che ad esempio in salita sono estremamente lenti anzi camminano ma magari sono degli ottimi discesisti e scendono a 345 al chilometro quindi hanno una potenzialità di spinta deformazione della lastra estremamente interessante ma vado a ragionare anche quando parlo di questo tipo di scarpa su un trinomio che non deve essere solo visto nella lastra ma deve essere visto suola quindi grip intersuola con lastra in carbonio e proprio intersuola struttura della gomma se si riesce a trovare un affiatamento tra questi tre elementi la lastra in carbonio può essere anche estremamente efficace nel trovare quella agilità di cui parlavo prima legata ai discesi naturali del sentiero quindi quando io corro su un sentiero in agilità avere quella risposta elastica che mi consente di avere più stiffness anche nelle velocità poco sostenute è chiaro che non stiamo parlando delle stesse lamine che ci sono su strada ma magari possono essere lamine biforcate davanti che quindi consentano di agire anche sull'asse trasversale dell'appoggio non solo sul longitudinale c'è da lavorare penso che sia un discorso io personalmente che non sono mai stato e ragioni più adesso un atleta veloce trovo ottime risposte da scarpe in carbonio e non ho trovato che mi stravolgano lo schema della corsa rispetto a una scarpa tradizionale bene rimango sempre sul tema materiali perché il trail running soprattutto quando allunghiamo le distanze richiede una serie di materiali da portarsi dietro e mi vengono in mente le bacchette ma anche lo zainetto il gilet anche su questi aspetti se puoi dare qualche consiglio per scegliere dei materiali quindi su cosa orientarsi sì allora la scelta del materiale è estremamente importante è uno degli elementi che condiziona le gare le gare di trail running questo una premessa che non ho fatto ma mi piace sempre fare perché nella corsa su strada o in pista normalmente vince l'atleta più veloce nel trail non è così sempre spesso è così ma non sempre le gare di trail vincono gli atleti che riescono a gestire cinque elementi contemporaneamente che sono la prestazione atletica quindi la velocità di base sostanzialmente la gestione nutrizionale dello sforzo la gestione del materiale dell'equipaggiamento che si utilizza molto importante la tattica e la strategia di gara e poi gli aspetti mentali legati a tutto quello che si viene a sviluppare quindi come come hai visto l'equipaggiamento è uno degli elementi dei pilastri di questo sport che oggettivamente può anche condizionare la prestazione se non addirittura inficiarla perché è pur vero che se corro nelle colline dietro casa mi basta uscire con che so un marsupietto dove ci metto il telefono per le emergenze e un keyway e un gel ecco e va bene tutto ma se già vado su un territorio appenninico alpino e mi coglie un cattivo tempo devo essere assolutamente corredato perché come dico sempre una stufa finché c'è legna che brucia è incandescente e la ghisa scotta ma quando non c'è più niente che brucia nella stufa la stufa diventa fredda quindi vuol dire che abbiamo veramente bisogno di portarci dietro un minimo di attrezzatura quindi il vestiario e l'equipaggiamento sono in relazione all'ambiente naturale che andiamo a vivere e alla durata che prevediamo di stare in giro quindi se prevedo di stare in giro un'ora di allenamento un conto se prevedo di fare un giro ad anello che mi porti di nuovo alla macchina in cinque ore devo portarmi dietro nello zaino tutto quello che prevedo sia necessario per cinque ore detto questo anche il discorso dei bastoncini rientra in questa scelta che vado a fare normalmente il bastoncino aiuta tanto lo vediamo spesso utilizzato nelle gare lunghe cioè più lunga la gara normalmente e più il bastoncino diventa un aiuto che va ad affiancare lo sforzo degli arti inferiori su gare abbastanza brevi quindi veloci dove la dinamica del passo è efficiente si riesce a far girare la gamba il bastoncino può essere addirittura un ostacolo e quindi non consigliabile quindi oggettivamente l'utilizzo del materiale è in funzione del tipo di atleta della tipologia del terreno e della distanza di gara chiarissimo io un consiglio che do io è quello di provare tutto in allenamento prima di andare in gara perché mi succede di vedere che magari uno si inventa come capita prende il gilet nuovo prende le scarpe nuove o i bastoncini che non ha mai usato e poi come dici tu diventano un intralcio piuttosto che uno strumento da poter utilizzare sì sì come dici giustamente ci si allena anche a usare il materiale ci si allena anche a mangiare in allenamento cosa che normalmente nel podismo non è concepito cioè ci si deve allenare anche a gestire queste situazioni in allenamento per poi poterle sviluppare efficacemente nel giorno della gara poi per carità è logico che capisco anche che non sempre tutto sia possibile fattibile però quello che dico sempre è questo se facciamo determinate cose perché le facciamo per passione perché è la nostra passione quindi anche l'allenamento deve diventare lo strumento con cui svolgiamo la nostra passione quindi a questo punto diventa anche facile poi farlo assolutamente proseguo visto che hai introdotto il tema delle lunghe distanze parlando dell'ultra trail perché anche qui c'è un po' una tendenza una moda un interesse nell'allungare sempre di più nel tirare sempre di più la corda nel cercare i propri limiti e in Italia fortunatamente abbiamo delle gare tra le più estreme quindi quello che ti chiedo è fin dove ha senso spingersi per un amatore dunque il discorso è questo è molto complesso intanto sono d'accordissimo con te io non condivido il concetto del cielo lunghismo a tutti i costi finire una gara da 100 km non è più prestigioso che finire bene una gara da 20 se no sarebbe come dire che un atleta del 100 metri piani vale meno rispetto a un maratoneta perché fa meno strada quindi ci sono atleti che giustamente amano di più le corte distanze alcuni le distanze intermedie e alcuni le gare lunghe quindi bisogna seguire le proprie propensioni e le proprie passioni questo è la premessa che faccio oggettivamente il fatto di accedere a delle ultra trail quindi delle gare estremamente lunghe è facente parte dei sogni di una persona perché diventa quasi come un concetto di riuscire ad affrontare una sfida con se stessi indipendentemente a volte dal tempo che ci si mette per chiudere cioè facciamo un esempio al Tour de Jean che è la gara più iconica delle lunghe distanze che abbiamo in Italia e forse anche nel mondo chi conclude la gara nell'ultimo giorno giorno di gara viaggia a circa due chilometri e mezzo all'ora di media per quasi una settimana quindi stiamo parlando di velocità estremamente contenute quindi da questo punto di vista si sta parlando non tanto della prestazione ma del concludere un proprio sogno da questo punto di vista non ci sono limiti se andiamo a vedere cioè se tu ti sei messo in testa di fare una gara come la Marathon de Sable nel deserto e vuoi farla perché secondo te è un sogno che vuoi realizzare va bene ci sta ci sta tutto non c'è nessun problema anzi basta che tu non ti metti nei guai o non metti nei guai chi deve venire a salvarti e poi è giusto che riesci a in qualche modo a soddisfare i tuoi sogni il principio il principio è che non necessariamente più corro a lungo e più sono bravo posso essere bravo tanto quanto uno che fa una gara da 40 km con una buona soddisfazione di tempo finale quindi è una questione proprio culturale è una questione di oggettivamente espressione attraverso la corsa del proprio benessere e ognuno deve guardare le proprie direzioni sì secondo me è da da incorniciare questa cosa nel senso che deve essere un aspetto che sia importante per noi non devo far più chilometri dell'amico che ha fatto il trail del monte bianco che ha fatto cortina che ha fatto la lutta deve essere per me a volte io stimo di più un maratoneta non so di 60 anni che chiude la maratona in tre ore e mezza piuttosto che un atleta di 60 anni che chiude una gara da 100 km in montagna arrivando con la scopa è la stessa cosa alla fine non è che perché ne hai fatti di più sei più bravo guarda da quando hanno unificato il mondo della della corsa in montagna e del trail quindi da pochi anni sostanzialmente quando ci spostiamo per fare i campionati del mondo ci spostiamo con gli atleti che fanno le gare di trail lungo quindi 84-85 km circa e gli atleti che fanno il vertical che quindi magari chiudono in 30-40-45 minuti dipende da quanto è lunga quindi non è che l'atleta che fa quello da 80 è più forte rispetto a quello che fa la gara corta sono tutti atleti sullo stesso piano con specialità diverse ognuno deve esprimere le proprie potenzialità fisiche e mentali nel format di gara che gli si addice di più questo è molto importante poi la soddisfazione è la conseguenza del lavoro che viene svolto quindi ognuno deve cercare le proprie passioni bene altro argomento che si sta sviluppando evolvendo moltissimo è la strumentazione diciamo dello spot watch che ormai è diventato un computer da portarsi appresso in tutti gli aspetti quali sono quali possono essere le metriche che consigli di guardare su cui prestare più attenzione magari anche in analisi di dati o comunque durante la gara e perché ormai ci sono di tutti i gusti alcune secondo me anche forbianti di numeri quindi ti chiedo dove prestare attenzione sì 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 ma allora durante la gara oggettivamente è sempre molto pericoloso farsi guidare da un device da polso si rischia si rischia di più ci sono anche delle funzioni che dovrebbero aiutare in questa conduzione però noi non dobbiamo mai mai dimenticare che il trail è fatto da imprevisti e quindi esempio io sto correndo su un tratto ipoteticamente facile un falso piano che magari non so è di 4-5 chilometri e normalmente ho previsto di correrlo a 6 chilometri all'ora perché quello è un po' il mio passo benissimo c'è fango c'è roccia scivolosa c'è roccia tecnica c'è asperità del terreno mi trovo a doverlo addirittura camminare e quindi vado a sconvolgere quella che mi ero prefissata come tattica di gara anche la frequenza cardiaca stessa a volte non è estremamente un indice da tenere in conto durante la gara perché non è correlabile alla velocità nel senso che possiamo trovare dei tratti come dicevo prima estremamente facili come profilo quindi se li guardo su un profilo attimetrico sono facili ma poi in realtà devo armeggiare con bastoni e fango e quindi mi diventa estremamente complesso l'importanza di questi di questi attrezzi tecnologici secondo me è soprattutto nel valutare nel dopo gara o nel dopo allenamento il risultato del lavoro che è stato fatto e quindi impostare gli allenamenti successivi in funzione dei dati che ho raccolto e ho strappolato da quella prestazione esempio guardavo con un mio atleta giusto poche settimane fa il risultato di una gara che era una gara per lui abbastanza breve era una gara che poi ha chiuso in circa tre ore e abbiamo guardato la frequenza cardiaca media che ha mantenuto ad esempio su quelle tre ore giocando quindi su questo dato abbiamo impostato dei lavori magari per andare a modificare un pochettino l'efficienza cardiorespiratoria nel lavoro stesso quindi la tecnologia è importante ma non è tutto e mi appoggio anche a un altro tipo di discorso offerto dalla tecnologia ormai è un grandissimo aiuto io lo ammetto e io stesso ne faccio uso sistematicamente quando andiamo a correre in qualche posto non ci muoviamo se non abbiamo la traccia del GPX che ci guida ed è giusto va benissimo però non possiamo andare in montagna senza avere un'idea della cartografia finisse mai la batteria ci devo venire a prendere non so in che modo e poi anche semplicemente ci sono volte in cui i piani altimetrici non corrispondono mi sembra di prendere un sentiero piglio l'altro devo sapere più o meno se vado a nord o a sud per capire magari anche dove girarmi quindi è anche affascinante poi sapere dove ci troviamo quando siamo nei boschi e non semplicemente farci così indicare da una freccetta se vado a destra o vado a sinistra quindi è giusto utilizzare la tecnologia nel modo nel modo giusto corretto ma senza esserne succubi d'accordissimo con te anzi ultimamente scusami sta venendo anche molto fuori proprio da sempre legato a questo discorso anche su atleti di importanza internazionale anche su coach francesi che ho seguito ultimamente lo stimolo alle all'effettuare gli allenamenti in base all'RPE alle scale di Borg lo sforzo percepito estremamente importante questo discorso perché poi alla fine va un po' a riassumere anche il contesto del trail perché in una scala di Borg di fatica che io mi attribuisco mentre sto correndo non guardo solo la frequenza cardiaca che sto tenendo cioè io so che devo stare in una frequenza cardiaca non eccessiva se no sballo quindi sto al fiatone eccessivo non ci sto più ma se nel frattempo sto facendo un terreno durissimo io posso avere una frequenza bassa ma i tendini da kille che stanno andando in fuoco quindi il mio Borg sarà relativo alla frequenza un Borg 6 ma relativo ai piedi un Borg 12 devo rallentare anche se l'indice di frequenza cardiaca dell'orologio mi dice che sono basso quindi è molto importante anche non dimenticare le sensazioni proprio per questo tipo di complessità del trail sì io per quello che ho parlato con professionisti anche su strada ipodismo e coach di professionisti tutti mi hanno detto che utilizzano principalmente le sensazioni di sforzo quindi hanno gli strumenti li analizzano fighissimo però poi i professionisti non è che stanno lì a vedere se stanno in zona 2 o se stanno in zona 3 loro lo sanno l'intensità di sforzo che devono sostenere per fare un vertical o per fare una 40 km per farne 300 quindi è più l'amatore che si trova in difficoltà che spesso non sa valutare l'intensità di sforzo e quello aiuta molto io sono d'accordo con te dare una scala di sensazioni è fondamentale per conoscersi per imparare a conoscersi ti faccio un'altra domanda le ultime per chiudere un po' il cerchio sul trail ci sarebbe da parlare per giorni ma diciamo che cerchiamo di intanto introdurre il tema nel migliore dei modi un consiglio che daresti per chi vuole approcciarsi non ha mai fatto una corsa in natura e invece poi qualche suggerimento per chi già partecipa che già fa trail e vuole cercare di fare un po' il salto di qualità migliorarsi su cosa poter investire il proprio tempo il consiglio che do è quello di mi allaccio alla risposta di pochi minuti fa di sentire quello che si sta facendo quindi prima cosa a tavolino dire dove vado vado a fare un percorso che dal paese X mi porta al paese Y attraversando quindi che so 20 km di terreno naturale di sentieri di piste poderali di piste jippabili benissimo è un po' troppo per me ok perfetto alterno un po' di passo e un po' di corsa mai vergognarsi nel trail specialmente nelle fasi iniziali di camminare mai 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 il trail running quindi dal punto di vista proprio motorio è un'alternanza di passo e corsa nelle gare del campionato del mondo di 80 km chi vince le gare cammina anche parecchio magari su dislivelli per carità ma mai vergognarsi di camminare ragionare sull'economia di coprire 20 km con un determinato equilibrio quanto ci metterò ma penso di metterci 2-3 ore cosa potrò mangiare e bere in 2-3 ore ma potrò mangiare 3 biscottini 2 caramelle di frutta un gel perfetto fa caldo portiamoci un litro d'acqua che è meglio perché so che non ne trovo sul percorso parto magari dico al mio amico alla mia fidanzata che sarò lì perché caso mai succede qualcosa il telefono non prende almeno sanno che sono lì in quella zona cominciare in maniera molto molto serena molto tranquilla senza dover guardare la media chilometrica che mi sono prefissato quindi cercare di sentire il movimento del corpo in natura questo penso che sia un po' la base e poi da lì giocare sulle proprie esperienze e salire man mano verso delle esperienze un pochino sempre più impegnative un suggerimento molto utile che mi sento di dare è quello di andare a vedere eventuali gare di trail che ci sono nella zona dove abito scaricarmi dal sito il GPX e magari andarle a provare quindi io so che lì normalmente a maggio fanno una gara benissimo ok so che quello è un percorso che è sicuro tra virgolette vado a farmi un giro lì e vedo cosa succede poi arrivo a casa e dico aspetta un attimo prendiamo la classifica di quella gara dell'anno scorso e vediamo cosa sarei arrivato io se avessi fatto la gara guarda chi ha vinto ci ha messo un'ora io ce ne ho messe due con due ore sarei arrivato a metà classifica ok questo ad esempio è un ragionamento che consiglio estremamente semplice fattibile in qualsiasi condizione per chi già fa trail e vuole fare un salto di qualità ecco allora diventa un pochino più impegnativo perché a parte che l'impegnativo è sempre relativo perché fare cose che piacciono non è mai una sofferenza ma anzi è una gratificazione però bisogna cominciare a capire i propri punti forti e i propri punti deboli quindi l'atleta che vuole fare un salto di qualità deve poter dire qual è il mio punto forte benissimo lavoriamo sui punti deboli se io sono già uno che in una mezza maratona ho personale di 1,15 ho già una buona corsa per far trail quindi se vado male nel trail perché magari mi manca o la forza o la destrezza o la tecnica in discesa mi mancano determinati aspetti quindi devo lavorare 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 su quegli aspetti capire quali sono i punti forti e i punti deboli e un buon modo per capire quali siano i tuoi punti forti e i punti deboli è molto semplice vedere durante una gara quando tu superi gli altri o quando gli altri superano te quindi nel range delle persone che gareggiano insieme a te capire in quali tratti di gara sei più forte o più debole degli altri chiaro assolutamente illuminante perché a volte uno non ci pensa ma deve lavorare su quello deve lavorare assolutamente sui punti deboli vale per la strada vale per il trail spezza una lancia sulla camminata anche su chi fa strada ovviamente le istanze un po' più lunghe che può essere la maratona o qualcosina di più si può camminare non è vietato perché vedo spesso persone trascinarsi piuttosto che camminare invece potrebbe essere anche una cosa strategica mettere dei tratti di cammino sì sì io ho visto tantissime il mio primo libro è uscito nel 2004 con Correre ma l'ho scritto nel 2000 quindi bene o male è da un po' di anni che mastico questo tipo di disciplina e oltre alle conoscenze teoriche proprio posso dire di aver visto tanto materiale umano e di aver accompagnato anche tanti atleti verso questa disciplina le cose pratiche concrete che posso dire sono veramente queste analizzare bene se stessi è fondamentale e capirsi bene è altrettanto fondamentale bene allora prima di salutare Fulvio ci tengo a dire due cose una lascerò sotto nella descrizione tutti i tuoi riferimenti Fulvio quindi anche i tuoi libri che sono veramente ben fatti che consiglio per chi vuole approcciare la disciplina dove trovate molte più informazioni di quelle che siamo riusciti a dare leggete Correre dove c'è una rubrica proprio di Fulvio che ogni mese vado ad approfondire degli aspetti del trail running e poi questa è una cortesia che chiedo io se vi è piaciuto questa chiacchierata questa conversazione di mettere un mi piace condividerla fatela girare perché più riusciamo a coinvolgere persone più riusciamo a invitare ospiti come Fulvio per fare appunto degli approfondimenti io Fulvio ti ringrazio per me è stato un grande onore un piacere grazie a te Paolo grazie dell'invito mi ha fatto piacere e spero di vedere tanti di voi che avete assistito a questa chiacchierata sui sentieri assolutamente a me mi vedrai presto da qualche parte dai bene grazie mille a Paolo ciao a tutti grazie grazie a tutti